Ciao a tutti che sono ti e benvenuti in questo nuovissimo video di Terra Restore 2 insieme a Stepney Ciao ragazzi Allora nello scorso episodio abbiamo affrontato e sconfitto il dungeon della lana arancione che ora ho posato qui nell'Henderchest E quindi per questa intersezione siamo a due Sì sì Ma la tua non l'hai messa, ce l'ho solo io È un Enderchest sì, la persona a persona Ah che palle, sempre queste cose personali, ma affanculo, condividi le cose con gli altri Egoista Oh, 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 sì Ma quando è che mettiamo se roba è il monumento? È alla fine della prima intersezione, immagino E quando finisce la prima intersezione? Dopo aver fatto gli altri dungeon Infatti ora non scende un attimo, c'è questo super mega albero Ma è del cibo? Ho una mela Basta Qua c'è la rigenerazione Ah, ok, figo Allora, in teoria Io seguo te non so dove andare Ma sì, stai scialo Oh, guarda qui, c'è un campo di beach volley No, penso sia uno di quegli allenamenti tipo per i soldati No, no, è beach volley Guarda c'è anche il tipo là sopra che gioca È l'albitro Non mi pare un campo di beach volley, però ok Vabbè, fidati, fidati Qua c'è una casetta Entriamo nella casetta Aspetta, fermo Sai che giorno è oggi? Oggi è il martedì 3 maggio Il mio non compleanno! Ok, andiamo avanti Lo sai, l'hai letto il messaggio nel gruppo? Cosa? Che hanno rivelato i marò? No, no, no Che, chi se ne frega Che si, che si ne è stata? Ha fatto un video con Emily Ratatouille Ratajkowski Ratatata No, Ratatouille era il cartone animato Vabbè Ratatata è il Pokémon Cioè, tipo, durante il vlog fa Ora ragazzi vado a prendere un amico Vabbè, poi vabbè Ritorna con Emily Esatto E c'è in macchina Emily Ratatouille Ratatata Ratajkowski Ratatata Non l'ho visto Vado a vederlo Comunque qui E sono fighissimi No Questo villaggiano fa degli scambi assurdi Viene a vedere Dove? Arrivo Qua Cosa? Porca buttana Leva Dandela bedrock In cambio di bedrock No, cazzo L'ho sempre voluto In Minecraft Scambio della vita Non posso neanche ammazzarlo Sai che forse di qui? Eccolo Mi sa che questo è l'ultimo dungeon Ah sì? Arrivo allora Vai Ah no, spero È pieno di alberi Mi sa che quale è dove siamo venuti No, siamo arrivati da qui Cazzo Ci siamo di fare tutto il viaggio per niente Cosa? Perché è da tantissimo tempo Tu mi hai portato qui Io anche Perché hai un cavallo? Perché l'ho preso là La piattaforma di evocazione Oh, levati di culo Oh, vieni qua Un fame Oh, fame Sei letto Sei letto Non è vero Vieni, vi è c'è Dai Giochiamo a Chiappino Vai Devi prendermi Anche apparello dei cosa Comunque Devi prendermi No, è rattatuglia O rattatà Quindi di nuovo Ma qui ci siamo già stati No, bisogna andare di fronte Sì, sì, eccolo Esatto Perché tu ne si è accorto prima Ma al solito Non lo so Vai Underground Undergrowth Death Minchia qua è tutto oscuro però Will you be home the prey? Ma è sì Ora sei toscano Tutto improvviso De boia Allora Vediamo un po' Quello dobbiamo fare Oddio è tutto buissimo Qui no No, alzano E ce l'ho già al massimo Vabbè Oh Dio Perché più di zombie Dunque dai Forse Dico forse Il prossimo episodio di Terraristore Lo registriamo dalla stessa casa Forse Perché Ah Non te l'ho detto Che si è rilotto Computer E certo So che ho visto Cazzo Eh Ok Aiuto Eh sì Mi ha venenato un ragno Aiuto Cazzo È La banda Bassotti Quanti creeper ci sono qui Porca cazzo Con la facenza Per farci Stor Me ne putto addosso C'è un cuore zi Un cuore Che io leggi All'improvviso Non glielo leggiamo Semplicemente Sì, sì, sì Comunque È destra o sinistra Ma non lo so C'è anche su Ah bello Sì dove sei Ahia Stavo aspettando Destra o sinistra o su È tipo il gioco Dei Ma A proposito di destra e sinistra Sei andata a fare la spesa Sì Cosa c'è da mangiare in casa È che io torno E non c'è cibo in casa Vabbè Amazon Vabbè Sinistra C'è un piccone In realtà c'è lo spawner Vai Eh rompi Vabbè Andiamo a sinistra Abbiamo capito Andiamo a sinistra Ma quanto è che potevamo spendere Le essenze da illager Eh no Dobbiamo tipo sbloccare Mi sa la prima intersezione Perché vedi Io prima ho cliccato Oddio Eh sì 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 Hanno volato per un attimo Io prima ho cliccato sul bottone Ma non mi ha fatto Non mi ha fatto niente Ok Io sto mettendo gli zombie Uno due Ok Andiamo avanti Quindi Facciamo un bagiale Non lo so Può essere Riva Riva Sto ammazzando Sto ammazzando Vabbè ho spaccato Allora scendiamo Vai Perso l'infinito E oltre Mi sa che Ci sono un po' di spune C'è la lana C'è la lana C'è la lana Grande lana Come no È viola Treasure Ah è il tesoro Spatta queste cose Eh no Sono i tesori Che ti bisogna trovare Ok ok Ho spaccato uno spawner Sto mettendo lo scherzo L'abbiamo entrati tutti No Ne manca uno Che però Non abbiamo trovato Che era nell'altra C'era questo qua C'erano due Ma uno solo Grazie Ti regalo Un minecart Tieni Cazzo me ne fanno C'erano Un minecart Tieni quest'altro Cappellino Di cui me ne fotto Il cazzo Ah sì Aspetta Un modo semplice Per tornare su No No Il figo Un cappello Che ti ho regalato Basta fare Porca Tieni Vieni No No Che culo Che culo Tutta skill Perché c'è chi conosce Minecraft E tu fai vlog Con Emily Rattatuglia Allora Direi di andare avanti Io andrei sopra Sono me sopra Perché c'è la salita Qua 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 Cosa No Non vedo Sarei da qui Fidati Non c'è abbastanza blocchi Dai da qui Come non c'è abbastanza blocchi Un altro Lo spacchi a mano Eh ma attento a tutti i modi Che c'hai di tuo culo Ma chi se ne frega Non mi toccheranno mai Ti sto ammazzando io Io sono l'intoccativo Ti mi sto ammazzando io Non mi prendono Ti mi sto ammazzando io Ho laurea di invinerabilità Laurea Certo Laurea non c'è È andata via Laurea Laurea non è più Cosa mia Dai Perché non mi colpiscono Perché mi sto ammazzando io Oddio quanti sono Sono troppo forte Eh vabbè Sarei da qui Sono invulnerabile Sire Sì ma un suggerimento Se vediamo un po' di legno Di log E li usiamo per fare un pillarone Anzi due pillaroni Hai ragione È uno sbaglio Mi piace ciao No no Sì anche ho bisogno di pillare Porca troia Quanto ti odio Vieni 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 Prenditi Buttami No No L'ho già buttati sotto Porca troia Esattamente Di qua Fai un buco sopra le chiome No no È qui È qui Cosa Vedi Ma c'era la scala Perché Non c'è un'entrata lì Ma c'era la scala Per arrivare lì Vieni qua Salta lì Salta qui Salta lì Ma siamo già arrivati Guarda Che talo Mamma mia Sono meglio di Indiana Jones Ho sputato un bambino Hai sturato un bambino Ho sputato un bambino Ho capito Hai sturato un bambino Cosa voleva dire Se non ha senso Vuol dire che non l'ho detto È vero Comunque non per dire Ma poi non vedo l'anero È il pami È il pami È sto ammazzando un po' di gente È perché più avanti Vieni qui Vada cosa li ho trovati C'è Sono un genio C'era una cesta C'era una cesta Ho settato lo spawn Per tutti Quindi puoi morire Se vuoi Cosa Aspetta Nella cesta c'era Del carbone È una posizione Della velocità Aia Aia Allora Andiamo di qua Lasciamo Che dici Ok C'hai dei liper dietro Che si possono trasportare Cazzo sono sti cosi Via Corri Corri Ho finito le frecce Sì Sto andando alla cesta Corri Non so se andare su A destra Le frecce o le torce Cosa intendevi C'è una cesta C'è una cesta C'è una cesta Piccone Prendilo Ok Torniamo indietro Hai preso Sì l'ho preso Ora andiamo su Non l'hai preso L'ho preso io Eh c'erano due Ah ok Perché non hai preso due In fame Eh perché l'altro L'ho lasciato a te Minchia Oddio Pio di liper qui Non capisco Cazzo C'è della luce Vai prosegui L'iper de merda L'iper de merda L'iper de merda Ok C'è un liper Minchia quanto è messa questa cosa Sto correndo L'hai creato Moro Aspetta torcia Vai Oh minchia Ora Ora c'è la Aspetta Avanti Avanti o sotto Dritto ovviamente Siamo arrivati da sotto Ok Vai uno spone Vai spacca Una freccia Due frecce Ci sono due cani dietro No 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 Non morire Non morire Ezi Minchia quanto cazzo Sparano sti cani Ok Mi sono riuscito a mangiare Due panini di prima Ora ci sono Ah si va ancora avanti Porca troia Aspetta Mangia un panino Aspetta Attento dietro Eh zi sto mangiando Aia Aia mi stanno attaccando Da dietro L'iper Ok Ok Provei che non c'ho torce Porca ro Fatto io Lo fatto io Che Ok vado Ah Di a sinistra Di a sinistra Giù Vabbè Dove siamo Ok mi sa che siamo usciti Dall'altra parte della montagna Mi sembra giusto Mi sembra giusto Ma non è che magari La lana era lì a destra E questo è il passaggio Per andare alla prossima intersezione No Poi c'è un set spawn Va bene Vedi Se danno set spawn Vuol dire che la strada è giusta Esplosione Ti lascia Andiamo Te altro cibo Ma a cazzo Invece un monte di pesce Oh mio dio Che Oh mio dio Che c'è Si Qui e gira Dietro Dietro Dove sei Porca puttana Che c'è qua dentro Sono quattro prismarine Cosa servono Niente Che ho rubato la mela Ciao Andiamo Tanto ne avevo già una Ok Luce Si Dio disse luce Oddio Che sono questi rumori La creeper La creeper Ok Ho preso io le mele Scappa Si scappa Quali mele Ho preso l'alluminio L'alluminio Do cazzo Oddio no Pericolo Ragnatele Pericolo Dove sei Oddio Aspetta Aspetta C'era un creeper Oddio C'è il buco della morte Sali Sali Ti ritengo occupati Ho mangiato la mela dorata Per salvarvi il culo Vai fatto bene Ok Ci abbiamo fatta E' finita Porca troia Raga Ce l'avevo detto Che erano lo spawner Hai capito Esatto Cos'è questo E' uno spawner Biliper Si Andiamo Minchia infinito Sto dungeon Lo vedo Noto Ok Ora non so più dove andare Destra su No sempre dritto C'è un bivio C'è un bivio Destra o sinistra Allora Bisio A me non me lo dici A destra c'è una fortezza Adesta c'è una fortezza Fatta di legno What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Esatto Via 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 Meloni Perché dico sempre Oddio che sto Cos'è questo Lo suor E' velocissimo E' lo suor Ma E' voglio con colpo Allora Disfruggere Sì Mica c'erano 6 E' il spawner No no 6 Swarmer Ma vabbè 6 Sono Un colpo Minchia Aspetta Aiuto E' arrivato il quadro Siamo E' la farmacione Come si chiama Che cazzo sei tu Sticci se che è la canzone Oddio perché Oddio fa danno ad aria Ma no Non è che un boss No È il mini boss Oddio Muoglio Sei vicino Abbiamo fatto il set spawn Ah si Il problema è che devo passare in mezzo a tutta quella carcassa di mob Che ti ha fatto scuola Che ti ha fatto utilizzare le cose La mela d'oro La mela d'oro Il boss è importante Il boss è grande Il boss Anzi Time challenge Non ho fatto niente Giuro Che non ho pigiato niente Non ho pigiato niente Allora intanto mi faccio le torce Non mi ha detto cosa devo fare Ti ha detto all'inizio Open the gate Fai the gate Qualcosa con the gate Gates Bill Gates Minchia Installa Microsoft Windows 10 Non so dove cazzo andare Non posso neanche spaccare le ragnatele Non ti preoccupare sto arrivando Ma ci sono mob Tirani Sto arrivando Mi piaccio solo i pesce palla Per mangiare Il problema è che Ombi C'erano i piccini Giaccoli Oddio Che What Che è successo Ti è perdito il gioco No mi ha detto La tua game mode è stata Aggiornata Adventure mode Eh appunto Non posso più spaccare le cose Aia Sali su Sali su Oddio non muoio Devo mangiarmi la dora Sono vivo per adesso Sto mangiando Le mecomerie Scappa scappa Scappa